Anticipazioni Upass al 24-11, Gabriella pronta a sbarazzarsi di Martinelli, viola in crisi. Nell'anteprima della puntata un posto anche ele, che andrà in onda su Rai 3 da lunedì al venerdì sera, 20 novembre 2023. Viene annunciato che Marina e il marito metteranno in atto il loro piano contro Lara. Martinelli diventa sempre più felice man mano che si avvicina il giorno della sua liberazione, ma deve vedersela con Gabriella, sempre più decisa a compiacere Giordano. Intanto Viola si mette nei guai perché deve informare il piccolo Antonio della sua decisione di rompere con Eugenio. Dopo aver catturato Clara con Eduardo, Alberto è sempre più determinato ad ottenere l'affidamento esclusivo del piccolo Federico, ma per riuscirci ha bisogno di un sostegno efficace. Lara inizia a preoccuparsi per la sua incolumità e Rossella decide di incontrare la madre di Riccardo. Ci sarà un conflitto professionale tra i due fidanzati, Riccardo Clovi e Rossella Giordano. Nonostante ciò, il dottor Graziani incontra la sua futura suocera, Isabella, e tra i due nascono rapidamente dei sentimenti. Isabella, non avendo un rapporto positivo con il figlio, cercherà di trovare un nuovo punto di incontro ma finirà per creare scompiglio nell'organizzazione del matrimonio. Nunzio, invece, farà fatica a nascondere quello che prova per la giovane Giordano. Intanto Marina e suo marito saranno preoccupati ma anche infuriati a causa dell'imminente possibile scarcerazione di Lara. Con il passare del tempo, l'ex compagna di Roberto Ferri si renderà conto di non sentirsi più al sicuro e comincerà a temere per la sua incolumità. Nel frattempo Gabriella Sebillo porterà avanti il piano della coppia e si appresterà a sbarazzarsi di lei. Alberto vuole prendere Federico dalle braccia della madre, Ida è confortata da Diego e Nunzio è deluso da Diana. Nunzio riceve da Diana una spiacevole sorpresa, ma Viola ed Eugenio informano il figlio Antonio della loro decisione di separarsi. Maria, mentre Alberto porta avanti il suo piano per ottenere l'affidamento esclusivo del piccolo Federico. Clara decide di sfogare i suoi sentimenti con Rosa e confessare i suoi sentimenti per Eduardo? Intanto alla radio Filippo cerca un nuovo speaker per raffiancare Michele, che nel frattempo instaura un buon rapporto con la madre di Riccardo. Un piccolo incidente in cui la piccola Lolo diventa protagonista porta ad un nuovo litigio tra Mariela e Guido, mentre Ida cade ancora una volta nella più completa disperazione. Diego non esita a venire in soccorso della mamma del piccolo Tommaso e a tirarle su il morale.